È un progetto che ci ha entusiasmato da subito, l'idea di poter tenere il concerto di Santo Stefano, direi due da Pesaro, dal Teatro Rossini, con la nostra orchestra sinfonica Rossini, è sicuramente una bella opportunità, una bella opportunità per legare in questo giorno così importante l'aspetto spirituale, con l'aspetto artistico, l'aspetto musicale, il desiderio di rinascita anche della musica e della cultura, è una rete nazionale che affida alla nostra città un appuntamento che potrebbe diventare anche qualcosa di più di un solo evento, ma potrebbe diventare anche una bella abitudine nel periodo delle feste legata alla città di Pesaro, per cui abbiamo deciso da subito di sposare quest'idea che vedrà seguirsi sul palco in un vero e proprio spettacolo televisivo, quindi non sarà solamente un concerto, ma sarà anche l'opportunità di parole, di contestualizzare in una giornata così importante dal punto di vista spirituale, così come anche di fare vedere tante immagini importanti della città di Pesaro in questo momento che dalla cultura si vuole ripartire. Verranno anche consegnati dei premi a Ron, a Dodi Battaglia e a Raffael Guerazzi, quindi per capire insomma qualche livello del parterre artistico, assieme anche a tanti altri giovani cantanti e giovani artisti, che appunto caratterizzano in musica, in bellezza e in arte questa giornata così importante della politica spirituale, alle 10 di mattina del 26 di dicembre, quando ovviamente tutti gli italiani saranno a casa per vivere in serenità le feste e aggiungere questo elemento di bellezza e di riconoscibilità di Pesaro, città della musica UNESCO.